Mal tempo e buche piene d'acqua rendono difficile il transito ai battipagliesi in questi giorni. Molti disagi denunciati sui social network, ma qualcosa si muove in senso positivo per rimettere in sesso le strade cittadine. Infatti, come annunciato anche sull'albo pretorio dell'ente, dopo i lavori di riqualificazione effettuati in via Ionio, si prosegue per il rifacimento del manto stradale in altre zone, precisamente via De Gasperi e via Parini. Per tale motivo si è istituito il divieto di fermate e il divieto di transito dalle ore 7 alle ore 17, nei giorni dal 6 al 10 novembre 2018.